L'obiettivo è quello di rafforzare il sistema di videosorveglianza esistente sul territorio e così il Comune di Caltanissetta ha già presentato alla Prefettura Nisseno un progetto elaborato dalla Polizia Municipale insieme alla Direzione Seconda Lavori Pubblici. Un progetto che si è messo a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020 del Ministero dell'Interno permetterà di installare nuove telecamere in città. Come Comune abbiamo aderito di recente ad una iniziativa del Ministero dell'Interno, ha emanato un bando a chiamata e abbiamo candidato il nostro progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina per la relativa attuazione della misura. Il progetto che abbiamo predisposto è un progetto molto innovativo, non si sovrappone all'impianto esistente, del tutto nuovo, verrebbe a realizzarsi totalmente in fibra ottica con alimentazione autonoma. Noi contiamo con questo progetto di videosorvegliere delle zone non coperte dal servizio e che hanno problemi che attengono un po' alla sicurezza urbana e in genere ambientale, ma anche fenomeni più ambi e di natura anche criminale. Noi parliamo delle zone del quartiere Providenza, dove pensiamo di installare delle videocamere finalizzate a contrastare fenomeni predatori, ma anche fenomeni legati all'abbandono dei rifiuti, al degrado urbano che esiste in quella zona. Tutta l'area del mercato storico della Stada Foglia, che in atto non è videosorvegliato, rientra in questo progetto, come anche l'area di via Ferdinando I, dove c'è il mercato settimanale, dove avremo un monitoraggio più completo dell'area. E in più contiamo di videosorvegliare, sempre per contrastare i fenomeni che nel tempo si sono registrati sul territorio, l'area di via degli orti. Diverse dunque le zone interessate, tra queste si pensa anche agli impianti sportivi di Pian del Lago e poi ancora. Prevede anche l'installazione di sei telecamere che fanno lettura ottica delle targhe, che a regime verrebbero a essere collegate con una banca dati del Ministero, la cosiddetta banca dati transiti, che serve ad accertare per esempio il transito di auto per la quale è stata fatta denuncia di furto, piuttosto mancanza di copertura assicurativa dei veicoli o mancanza di revisione o revisione a scaduta. Il progetto che abbiamo predisposto traguardo un importo di circa 250 mila euro, per il quale è stato chiesto il finanziamento, è al vaglio della Prefettura prima e poi passerà al vaglio del Ministero. Intanto si preannuncia la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Parco Balate. Noi a breve realizzeremo un impianto con risorse proprie dell'ente di videosorveglianza nell'area del Parco Balate, proprio a tutela del patrimonio comunale. Lì c'è un'iniziativa del Comune finalizzata a rimboschire l'area, ma nel tempo si sono registrati danneggiamenti e furti. Per quanto riguarda invece la zona industriale? L'area industriale, le strade sono passate di competenza del Comune, di proprietà del Comune e quindi anche l'impianto che insiste, l'impianto di videosorveglianza realizzata dall'ASI che insiste in quella zona, passa nella visualizzazione della nostra centrale operativa. Nel tempo stiamo cercando di mettere al regime tutto ciò che questi strumenti consentono per avere una visione globale, un controllo quanto più capillare del territorio.